Allora, ciao a tutti, sono ancora qui con il mio Freddy. Perché? Perché voglio chiedervi una cosa che lo riguarda. Di firmare l'iniziativa dei cittadini europei Save Cruelty Free. È importante perché nonostante esista questo divieto, le autorità della UE continuano a chiedere che gli ingredienti dei cosmetici vengano spinti con forza in gola agli animali, ai sensi di una legislazione separata sulle sostanze chimiche, sono follia pura. Dobbiamo agire ora per proteggere e rafforzare i divieti di sperimentazione animale per i cosmetici e impedire che loro, i nostri animali, soffrano e muoiano. Io ho già firmato per il mio Freddy e per tutti gli altri animali del mondo e dovete farlo anche voi. Vi aspetto, grazie. Grazie.